Questo per te è un anno personale numero 6. Casa, famiglia, responsabilità, altruismo ed equilibrio, ricupera energie mentali e fisiche, porta equilibrio in ogni aspetto della tua vita, tra lavoro e tempo libero, carriera e famiglia, dare agli altri e prenderti cura di te, stai vicino ai tuoi cari e sistema a casa, dai affetto e generosità, aiuta il prossimo e porta armonia sia nelle tue relazioni con gli altri che dentro di te. Non sacrificarti né trascurarti, meditazione e yoga perfetti, nuovi incontri favoriti, relazioni esistenti o la va o la spacca, parola dell'anno, equilibrio.